Musica Ok Claudia, ritorniamo con la tua mano destra e la tua mano sinistra di preferenza per tirare e lanciare le palline. Allora hai un cerchio verde che corrisponde alla tua mano destra e hai un cerchio blu che corrisponde alla tua sinistra. Prendi una pallina in mano. Qual è la tua mano preferita? La sinistra. Ok, con la tua mano sinistra tira nel cerchio blu. Brava Claudia! Con la tua mano sinistra ancora prendi la pallina e la la pallina e il cerchio verde. Entrata Claudia! Siamo a due e adesso proviamo con la mano destra. Mano destra cerchio verde. Mano destra cerchio blu. Vediamo Claudia che comunque sei mancina. Però brava! Ripeti con la destra. Cerchio verde. Mano sinistra cerchio blu. Vai! Ancora sinistra cerchio verde. Mano destra cerchio blu. Brava! A questo punto proviamo con i piedi. prendi la palla. Vai! Scegli tu il tuo piede. Brava! Piede destro! Verde! Eh! Eh! C'eri quasi Claudia! Piede sinistro verde. Bravissima! Questo sinistro è veramente forte. Destro blu. Destro blu. brava! Brava Claudia! Ok. Devi prendere la mano sinistra e lanciare la palla di da di lato. Brava! Ancora! Buono! Ancora uno. Ok. Girati sull'altro lato e lancialo adesso con la destra. la destra. Eh! La destra dobbiamo allenarla. Ok Claudia! Ancora! Brava! Vedi? A forza di provare! Brava Claudia! Ok Claudia! Ultimo esercizio di coordinazione oculo-podalica. Finora abbiamo fatto oculo-manuale. Quindi con la tua pallina e il piede devi rifare una gincana intorno ai birilli per migliorare la tua coordinazione dei piedi. Bravissima! Con calma! Ottimo lavoro Claudia! Vai! Mantieni la stabilità. È normale che tu sei una femminuccia. Non hai questa dimestichezza con i tuoi piedi che però possono essere sempre allenati ed è giusto che lo siano. Brava! Ottimo! Look! A molinuccia!